Anticipazioni terra amara. Quelle che ti porto saranno puntate ricche di colpi di scena. Demir, mentre sta andando ad una festa, nota un'auto ferma, ci si avvicina, e viene aggredito ferocemente, e portato in un luogo oscuro. Chi sarà stato ad aggredirlo? Se lo vuoi sapere, rimani fino alla fine e non te ne pentirai. La puntata si apre con un affettuoso saluto di Demir a Zuleya, avvolgendola in un abbraccio che celava una moltitudine di emozioni. Demir chiede a Zuleya di non aspettarlo quella sera in quanto doveva incontrare il proprietario del terreno confinante, interrotto bruscamente il giorno precedente a causa di un acceso confronto con il vetraio. Nel frattempo, Zuleya, accompagnata da Saniai, si dirige verso il villaggio, distribuendo doni ai bambini e scambiando saluti e sorrisi con le donne del luogo in un gesto generoso. Riflettendo su come inizialmente trovava insopportabile la presenza di Sevda, Zuleya nota inaspettatamente una trasformazione nei suoi sentimenti. Nel frattempo, Demir è in viaggio verso l'incontro con il proprietario del terreno quando improvvisamente una macchina blocca la strada. Un uomo sembra avere problemi e, mentre Demir si avvicina con cautela per aiutarlo, viene colpito alla testa e cade privo di sensi. Pensierosa, Zuleya varca la soglia della maestosa villa insieme a Emin. Quest'ultima confida a Zuleya il suo bisogno di nutrirsi, e sensibile alle sue parole, Zuleya chiama Saniai. Nel frattempo, Sevda, con un'aria pensierosa, suggerisce se non fosse più opportuno servire il pasto a Demir direttamente su un vassoio. Ma Zuleya, con una decisione velata di malinconia, insiste nel cenare tutti insieme. Sevda domanda se non sia meglio aspettare Demir per condividere il pasto in famiglia, ma Zuleya risponde che Demir non rientrerà quella sera in quanto aveva annunciato la sua partenza sin dal mattino. Sevda, curiosa, inizia ad indagare sulla situazione. Zuleya, con un sospiro, rivela che Demir aveva pianificato di incontrare Erkan poiché la sera precedente non erano riusciti a concludere un importante affare. Amine non può fare a meno di commentare che probabilmente Adnan ha preferito trascorrere la serata con la cantante, soggetto delle sue infedeltà coniugali. Esprime tutto il suo disprezzo per quella donna, accusandola di essere la causa della rovina del matrimonio di sua figlia. Zuleya, ascoltando queste parole, si perde in un mare di pensieri, il volto segnato da un'ombra di preoccupazione. Sevda, con un crescente senso di disagio, ricorda quando aveva avvertito Demir, Umit non lo avrebbe lasciato andare così. Prima di proseguire, se il video è di tuo gradimento, lascia un piccolo commento sotto, e io ti porterò sempre nuove anticipazioni. Ricominciamo. Il giorno successivo, Zuleya si risveglia in una casa avvolta nel silenzio, che sembra sottolineare l'assenza di Demir. Con uno sguardo ancora appannato dal sonno, osserva il letto vuoto accanto a sé e un senso di inquietudine le stringe il cuore. Guarda l'orologio e con passi incerti scende al piano di sotto, dove l'attende la solitudine di una colazione solitaria. Vedendo Zuleya sola, Sevda le chiede se Demir stia ancora riposando. Zuleya risponde che Demir non è rientrato la sera precedente. Sevda continua a interrogare Zuleya per capire meglio la situazione. Zuleya, cercando di mantenere la calma, spiega di essersi resa conto dell'assenza di Demir solo al risveglio quella stessa mattina. Sevda chiede se Demir abbia almeno avvisato con una telefonata. Zuleya risponde negativamente, cercando di minimizzare suggerendo che forse Demir, dopo la cena, avesse preferito non guidare e trascorrere la notte in albergo. Tuttavia, Sevda non riesce a nascondere la sua rabbia, pensando che dietro l'assenza di Demir ci sia l'ombra di Umit. Poco dopo, Sevda decide di affrontare Umit di persona. Al suo arrivo, Umit la accoglie con un'arroganza glaciale, dicendo che Demir non è con lei e invitandola a ispezionare la casa se non si fida. Sevda, entrando, risponde con fermezza che non importa se Demir è lì o meno. Quello che desidera è che Umit lasci in pace Demir e accetti il fatto che lui non la ami. Umit interroga Sevda sul vero motivo della sua visita, insinuando che il problema sia la sua incapacità di lasciar andare Demir. Sevda, con fermezza vibrante di passione e verità, ribatte che Demir è un uomo felice nel suo nucleo familiare e che Umit dovrebbe rispettarne la felicità anziché cercare di distruggerla. Rivela di aver osservato Umit girovagare intorno alla villa fino a notte e fonda con l'unico scopo di seminare discordia tra Demir e Zuleya, cercando di dividerli. Umit, con un ghigno di disprezzo, respinge con vehemenza le accuse di Sevda, affermando di non curarsi delle sue parole e la spinge fuori. Sevda lo accusa di non trattarla come una sciocca, sottolineando di conoscere bene il tipo di persona che è Umit. Quest'ultimo, con un sorriso sarcastico, risponde che Sevda è esperta nel riconoscere tali persone perché è esattamente come loro. Sevda, scossa, chiede spiegazioni, ma Umit, con una risata amara, le lancia un'accusa velenosa, sostenendo che non c'è nessuno migliore di Sevda nel distruggere le famiglie e legarsi a un uomo per separarlo dai suoi cari. La tensione tra le due donne arriva al culmine quando Umit, con tono sprezzante, urla a Sevda che non è altro che l'amante di Adnan. Sopraffatta, Sevda colpisce Umit e le grida di tacere. Umit, furiosa, la minaccia dicendo di non conoscere la sua vera natura. Sevda, con uno sguardo di sfida negli occhi, replica che Umit non è diversa da lei. Umit è sul punto di rispondere, ma in quel momento interviene Mugeigan, chiedendo di parlare con Umit. Sevda approfitta di questa interruzione e si allontana, lasciando Umit a confrontarsi con Mugeigan. Nel frattempo, in un luogo isolato e tetro, Demir si trova faccia a faccia con il suo rapitore, Fikret. Demir, con gli occhi scintillanti di rabbia, riconosce in Fikret l'autore anonimo delle pubblicazioni diffamatorie su suo padre. Lo interroga sulle sue intenzioni, chiedendogli chi si creda di essere per gettare fango sull'onore di suo padre. Fikret. Con un sorriso freddo e calcolatore, intima a Demir di tacere e ascoltare se vuole scoprire la verità. Demir, tuttavia, non riesce a trattenere il suo disprezzo per l'uomo che ha cercato di rovinare la sua famiglia e la sua impresa. Lo accusa di viltà per averlo attaccato alle spalle e rifiuta di ascoltare le sue parole senza senso. Fikret dice a Demir che avranno modo di sistemare i conti una volta che lo avrà liberato, ma prima deve ascoltare ciò che ha da dire. Mentre Demir tenta in vano di liberarsi, Fikret inizia a raccontare la sua terribile infanzia. Fikret rivela che Musa, credendosi il padre di Demir, li aveva quasi uccisi insieme a sua madre, rifiutandosi di ascoltare le loro spiegazioni. La madre, disperata, aveva cercato aiuto da Adnan, ma lui li aveva respinti. Demir, scosso ma ancora incredulo, etichetta Fikret come un pazzo, rifiutandosi di accettare che suo padre potesse essere un uomo indegno. Fikret afferra un coltello e si avvicina a Demir, un gesto che sembra preludere a un atto di violenza. Tuttavia, invece di ferirlo, inizia a tagliare le corde che legano Demir, liberandolo. Ora libero ma ancora sotto la minaccia di Fikret, Demir deve decidere come affrontare questa rivelazione sconvolgente e il destino incerto che lo attanaglia. Appena liberato, Demir reagisce con un impeto di rabbia, colpendo Fikret, scatenando così una lotta feroce tra i due uomini, un duello di forza e volontà, dove entrambi si feriscono consumando le proprie energie in un vortice di disperazione. Demir, con il fiato corto, accusa Fikret di essere solo un miserabile che cerca di nuocere a persone innocenti. Fikret ribatte, dichiarando di non aver mai voluto fare del male a persone innocenti. Rivela di aver fatto scendere gli autisti dai camion prima di tentare l'esplosione, per evitare che si facessero male. Esauriti, entrambi si rialzano a fatica. E in un gesto inaspettato, Fikret estrae due pistole e ne porge una a Demir. Demir accetta l'arma e controlla il caricatore, rimanendo scioccato nel constatare che Fikret gli ha dato una pistola carica di proiettili veri. Chiede a Fikret cosa stia facendo, e quest'ultimo dichiara di voler risolvere la questione nel modo giusto. Demir chiede se Fikret intenda concludere il loro conflitto con la morte, e Fikret ammette di essere stato lui a costringere Demir a quella situazione estrema, pubblicando quegli annunci sui giornali, invece di cercare un confronto diretto e pacifico. Demir accusa Fikret di vigliaccheria per aver scelto di inviare lettere anonime invece di affrontare direttamente la situazione. Fikret, con voce carica di frustrazione e dolore, sfida Demir a considerare se abbia mai cercato di indagare sulla verità anziché solo negare e minacciare. Con espressione determinata, Demir chiede cosa avrebbe dovuto scoprire, accusando la madre di Fikret di aver tentato di estorcere denaro ad Adnan. Fikret, intimandogli di non parlare di sua madre, ricorda il momento in cui Adnan li cacciò di casa. Sconvolto dalle rivelazioni, Demir respinge l'idea, dichiarandola pazza. Fikret, con un misto di dolore e rabbia, rivela a Demir che conosce la verità, sono fratelli. Chiede a Demir come intende gestire questa rivelazione. Con rabbia e determinazione, Demir afferma che non lo farà mai. Successivamente, Fikret si prepara a sparare, urlando a Demir di prepararsi poiché la situazione non avrà fine finché uno dei due non morirà. In un gesto di disperato coraggio, Demir getta via la propria arma e si avvicina a Fikret, offrendogli la pistola e invitandolo a sparare. Fikret esita e non riesce a premere il grilletto. Demir si allontana, lasciando Fikret in lacrime mentre lo implora di non dare tutto per finito. Con voce decisa, Demir gli risponde che per lui è finita, e si allontana, lasciando Fikret solo con i suoi pensieri. E ora, secondo te, cosa accadrà? Fammelo sapere. Se vuoi altri video, lascia un piccolo commento con scritto, certo, e sarai la prima a ricevere nuovi aggiornamenti. Alla prossima. Ciao. Grazie.